Chi gioca contro l'Atalanta prova a rimettersi in gioco per puntare a un posto nell'Europa che conta. Proverà a farlo sicuramente la Lazio di Sarri, che nell'anticipo del sabato sera della 23esima giornata ospita la squadra di Gasperini. Che Atalanta sarà sotto i riflettori dell'Olimpico di Roma è difficile dirlo. Le ultime parole spese da Giampiero Gasperini, che non ha tenuto la consueta conferenza stampa della vigilia, indicavano il recupero di toloi e mele. Il che significa garantire ruoli coperti in difesa e sulle fasce. Agli assenti sicuri, vale a dire Zapata, che dovrebbe tornare dopo la sosta, e Gosens, il cui rientro in Germania fa paesagire i tempi di rientro più lunghi, dovrebbero aggiungersi Malinowski, Atebor e Ilicic. Intorno al fantasista sloveno cresce la preoccupazione, perché non sarebbe nelle condizioni migliori. La situazione di Ilicic coinvolge anche il russo Miranchuk, la cui partenza potrebbe essere congelata per garantire a Gasperini un ricambio in attacco. A Roma contro la Lazio, mister Gasperini dovrebbe tornare al 3421. A guidare il reparto offensivo sarà quasi sicuramente Muriel, che poi risponderà alla chiamata della nazionale colombiana, così come farà il portiere Musso con l'Argentina. Per gli altri due posti in attacco, in pole, ci sono Pessina e Pasalic. Pronti all'impiego anche Coopminers e Miranchuk. La distinta finale, in cui ci saranno molti ragazzi della primavera, scaturirà come sempre dall'esito dei tamponi. Sul fronte laziale, Sarri pure deve fare la conta degli indisponibili e si affiderà ancora a Ciro Immobile e Milinkovic Savic. Calcio d'inizio alle 20.45. Per tutte le notizie vi rimando a zonamistamagazine.com Per tutte le notizie vi rimando a Ciro Immobile.